L'ingresso ai fedeli sarà consentito in due fasce orarie, tre ore al mattino e tre ore di sera. Dal 18 maggio prossimo invece finalmente la celebrazione delle messe contingentate. I fedeli con tanto di mascherine si accomoderanno nella navata centrale ad abbondante distanza gli uni dagli altri. Non sarà possibile usare l'acqua benedetta dell'acqua santiera per farsi il segno della croce all'ingresso in chiesa e non ci si scambierà il tradizionale segno di pace. Don Michele Pecoraro, parroco del Duomo di Salerno, sta preparando la basilica per accogliere i cristiani ai tempi del coronavirus. Dal lunedì 18 grazie a Dio si incominceranno a celebrare le messe, ecco con la gioia di avere i fedeli ovviamente a partecipare sia nei giorni feriali e soprattutto nei giorni festivi. Siamo chiamati a un rapporto più intimo, vero, direi personale, spirituale, profondo con il Signore. Al di là dei segni. E forse ci ha fatto capire ancora di più questo momento, che io sono convinto che il Signore non vuole il male. A volte come questo lo permette perché noi possiamo capire di più. Poi il bene, no? Riflettere e quindi ognuno poi fa un esame di coscienza. La comunione, prima di distribuirla sempre da parte di Dio come sacerdote, metterò i guanti, va bene, la mascherina. Per quel momento passo io senza che vengano all'altare e quello dice a una certa distanza, la porgo sulla mano e ognuno si comunica. Veramente tutto quello che ho incontrato un po' intorno, quando pure io sono dovuto uscire per la spesa, per la cosa, ma anche per salutare, per dare una parola di incoraggiamento e cose, di sostegno alle persone che ho incontrato. Tutti dicevano non vediamo l'ora, non vediamo l'ora. E questo per me è stato veramente una gioia sacerdotale. Tu riscopri la bellezza della tua missione. Ecco, perché non è la persona, ma è quello che noi doniamo, incarniamo, è quello di cui noi diventiamo segni, no? Che è la persona di Gesù, Salvatore, Pastore eterno, no? Della nostra esistenza. Vita. Grazie. 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 Grazie.